Si comincia il 29 novembre con Ottoni all'opera nel concerto presso l'azienda agricola Deleiva, si chiude a maggio con la dodicesima edizione del concorso Giovani in Crescendo. In mezzo altri otto grandi appuntamenti concertistici che contrassegneranno la stagione di Sinfonica 2024-2025 a mettere il cappello conclusivo al prestigioso trentennale dell'orchestra Sinfonica Rossini. Dai concerti di Natale Capodanno alle celebrazioni del non compleanno di Rossini, da Beethoven e Stravinsky fino alle musiche da film. Il tutto con le grandi direzioni di Roberto Molinelli, Daniele Agiman e Riccardo Bisatti o straordinari interpreti quali Orazio Sciortino e Antievaitas. Saranno dieci gli appuntamenti tra grandi solisti internazionali, grandi programmi ma anche la valorizzazione di un'orchestra che è del territorio ma sta conquistando un po' l'Italia e il mondo. Siamo al trentesimo anniversario quindi è un momento importante, è una stagione importante. Dal tradizionale concerto di Natale al concerto di Capodanno, una meraviglia insomma non scontata per il primo dell'anno passando ad esempio per l'accento forte che ogni volta l'orchestra Sinfonica mette sulle settimane del compleanno o del non compleanno come sarà nel 2025 di Rossini non essendoci l'anno bisestile e anche l'opportunità con il 2025 che ospiterà l'appuntamento mondiale dell'istadio alla musica UNESCO di uno scambio che l'orchestra Sinfonica mette in campo con la Philharmonia Luxemburg Orchestra quindi anche un altro scambio internazionale e quindi un appuntamento internazionale della città potrà freggiarsi di questo. Capiamo assieme a tanti appuntamenti come le musiche da film rearrangiate da Molinelli e altri appuntamenti che c'è con Harry Potter e altri appuntamenti durante la stagione e l'importanza di questa stagione nella programmazione culturale di Pesaro a Capitale Italiana Cultura ma anche di Pesaro l'anno prossimo quando non sarà più nei fatti diciamo formalmente Capitale Italiana Cultura ma in realtà potrà continuare una programmazione di grandissimo livello grazie allo sforzo congiunto tra Comune e Alcesta Sinfonica Rossini. Sarà il segmento pesarese quello che presentiamo oggi ma ne abbiamo altri sette, sono otto più o meno i teatri su cui ci esibiremo in pianta stabile, quattro di taglio medio grande come Pesaro, Fano, Senigallia e Monte Colombo e altri quattro un po' più piccoli come Pergola, San Costanzo, Matelica e Corinaldo. Sarà dunque l'azienda agricola Deleiva ad ospitare il 29 novembre l'ouvertour della stagione sinfonica, azienda che nella conferenza stampa di presentazione ha omaggiato il trentennale dell'orchestra realizzando per l'occasione una produzione vinicola dedicata al prestigioso anniversario. A noi come azienda agricola piace sperimentare e avere avuto la possibilità di realizzare questo prodotto esclusivamente per l'orchestra che verrà presentato proprio in un periodo storico perché comunque parliamo del 2024 Pesaro della Cultura e l'orchestra sinfonica Rossini che festeggia il trentennale e qua è il miglior modo per utilizzare appunto un buon vino per festeggiare queste due occasioni.